ciao a tutti ecco un nuovo video di oggi su cruci giochi gorgeous alla sabbia sono talcare fur e ho visto che c'era il l'album delle figurine ma ho detto non lo prende tanto è sempre uguale però c'era questo e poi c'era un altro fascicolo sempre gorgeous con un due regalini però ho detto no non mi convince allora ho preso questo costa 4,90 euro e anche adesivi all'interno soft touch e sono i giochi intelligenti con tutte le soluzioni e della play press andiamo dietro come 4,90 euro e vi faccio vedere all'interno allora è da bambini però a me piace tantissimo allora ci sono i vari cruciverba quelli con i numeri gli unici puntini questi qua questo qui è un peccato anche scriverci sopra vabbè così sono vari giochi vado un po veloci così non va al noio però non so se mensile perché non si capisce quasi sono soluzioni qui sempre i vari giochi secondo me c'è solo questa volta basta perché non c'è ecco gli adesivi questi sono gli adesivi che sono morbidi infatti soft e si posso attaccare dove si vuole e poi ci sono i vari giochi ecco qua ok quindi capitolando costa 4,90 euro e l'ho trovato nel dove sono i giornali e nei cruciverba per questo video è tutto mettete un pollicino all'insù e iscrivetevi al mio canale ciao